Il coro delle montagne risponde perfettamente al suo conto. Così sono partito per un buon viaggio, lontano da ogni errore e dagli sbagli che ho commesso. Ho visitato luoghi per non doverti rivedere e quanto avrei voluto in quell'istante che ci fosse. Perché ti voglio bene veramente e non esiste un luogo dove non ritorni in te. Trascorsi giorni interi senza dire una parola, credevo che fossi davvero lontano. Sapessimo prima di quando partiamo che il senso del viaggio è la meta e il richiamo. Perché ti voglio bene veramente e non sentirmi dire che non posso farci dire che non posso farci dire che non posso farci. Grazie. 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 Grazie.